signore il dio altissimo non tardare oltre a mandare il tuo servo per portare la pace sulla terra suscita il tempo profizio e la vergine pura e feconda per l'avvento del tuo cristo padre padre santo concedi alla tua serva di offrire la sua vita a questo scopo concedimi di morire dopo aver visto la tua luce la tua giustizia sulla terra e di aver conosciuto che la redenzione è compiuta o padre santo manda alla terra il sospiro dei profeti manda alla tua serva il redentore che nell'ora in cui cessi il mio giorno si apra per me la tua dimora perché le sue porte sono state già aperte dal tuo cristo per tutti coloro che hanno sperato in te vieni vieni o spirito del signore vieni ai tuoi fedeli che ti attendono vieni principe della pace maria resta assorta così vieni ai tuoi fedeli che ti attendono vieni vieni ai tuoi fedeli che ti attendono vieni Grazie a tutti.